Ciao a tutti, vi invito a partecipare su Zoom sabato 16 maggio alle ore 18, la seconda lezione gratuita sui pennelli di pelus sintetico e naturale di martora, di bue e di vaio. Per iscrivervi registratevi tramite il link che trovate allegato a questo video. Per ulteriori informazioni potete contattarci al numero 339 32 888 84 o inviarci una mail a info-associazionilsegno.eu Vi aspetto, ciao! Grazie a tutti!